Torni lavorativi predisposti senza tener conto del riposo e delle ferie pregresse. Sulla carenza di personale, l'ospedale di Sulmona, l'FPCGL, continua ad alzare la voce. A distanza di ulteriori due mesi, ancora nulla è stato fatto e per tali motivi che l'FPCGL si sta già adoperando unitamente i propri legali per rivendicare nelle sedi preposte il diritto alla giusta e dovuta retribuzione dei lavoratori per il lavoro svolto, che da parte dell'ASL ancora non viene remunerato. Il fatto scrivono da sindacato che non si arrenda e incalza l'ASL, Avezzano, Summona, L'Aquila a riaprire immediatamente il tavolo di confronto. La carenza di personale, spiegano i sindacalisti della CGL, ha fatto sì che l'organizzazione del lavoro essere effettuata in violazione delle normative contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro, con la conseguenza che il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro sta enlargendo sanzioni per il mancato rispetto della norma, il danno, e a questo si aggiunga la beffa, in quanto le sanzioni vengono girate responsabili dei servizi che soffrono della carenza di personale. Dalla CGL fanno notare che si continua ad assistere ad elaborazioni di turni che vengono predisposti senza la giusta previsione dei riposti settimanali previsti per legge, senza che vengono garantite le 11 ore di riposo tra un turno e l'altro nell'arco delle 24 ore, senza che si dia ai lavoratori la possibilità di usufruire delle ferie pregresse. A questo si aggiunga un eccessivo ricorso lavoro straordinario, quale strumento di attuazione dell'attività ordinaria e programmata, in carenza di contrattazione per costruire la banca ora e regolamentare contrattualmente l'orario di lavoro collettivo. Dal sindacato concludono, rilevando che le condizioni di lavoro descritte tendono a un peggioramento in termini di stress, con serie ripercussioni nei confronti dei lavoratori, ai quali la ASLA ancora non corrisponde la giusta remunerazione per il lavoro svolto. Grazie a tutti.